Gian Piero e Dino continuano il loro viaggio direzione Capo Nord attraversando bellissimi e suggestivi luoghi e passando tra condizioni climatiche diverse. Un viaggio emozionante come raccontato dai due atleti che partiti da Sala Consilina hanno raggiunto in bici Torino la scorsa settimana per aggregarsi al folto gruppo di partecipanti alla sesta edizione di Nord Cape 2023, un'avventura in grado di regalare esperienze uniche per i suggestivi paesaggi e i luoghi che si incontrano ma anche per la sicurezza dei percorsi. I ragazzi sono giunti venerdì sera 21 luglio a Torino dopo aver attraversato l'Italia partendo da Sala Consilina e attraversando dunque Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia Romagna per raggiungere il Piemonte in tempo per aggregarsi con il gruppo della Nord Cape 2023 composto da 250 atleti provenienti da 42 nazioni diverse che si sono ritrovati presso la reggia venaria di Torino per dare il via all'avventura che vedrà gli atleti attraversare tante nazioni europee percorrendo 4.300 km fino a raggiungere Caponord. Un viaggio che per Giampiero Caffaro e Dino Stavola è iniziato ben prima con l'arrivo in Piemonte a bordo delle loro bici aggiungendo dunque 4.300 km già previsti dal percorso della Nord Cape 2023 oltre 1.000 km di percorso per raggiungere il Piemonte. Un viaggio emozionante che come raccontato da Giampiero e Dino anche attraverso i social consente loro di visitare città meravigliose percorrendo a bordo delle bici strade suggestive e ammirando paesaggi mozzafiato. Per i due atleti valdianesi però non mancano le difficoltà. Partiti con il caldo torrido dal Vallo di Diano negli ultimi giorni il maltempo non gli ha dato tregua costringendoli a macinare i chilometri sotto la pioggia abbattente. Ma l'esperienza resta fantastica come raccontato da Giampiero infatti nel corso del loro viaggio in bici fermandosi a riposare negli alberghi individuati lungo il percorso capita spesso di ritrovarsi con altri partecipanti alla Nord Cape consentendo loro di scambiare opinioni, confrontarsi ma anche conoscersi meglio. Insomma un viaggio in amicizia anche se ciascun partecipante segue il percorso secondo le sue possibilità e le sue ambizioni. Non ci saranno premi al traguardo, non ci saranno classifiche e di questo viaggio resterà solo un ricordo straordinario per un'esperienza indimenticabile. Giampiero e Dino dopo aver attraversato la Valle d'Aosta per raggiungere Losanna in Svizzera a prima tappa del percorso hanno poi raggiunto in breve tempo la seconda tappa ossia Parigi e la sua Torre Eiffel per poi ripartire verso i Paesi Bassi attraversando dunque Belgio, Olanda fino a raggiungere la Germania direzione Brema. Prossima tappa individuata nel percorso per Caponord è la città di Oslo in Norvegia mentre la quarta e ultima tappa è stata fissata nella regione della Lapponia in Finlandia prima di tornare in Norvegia e raggiungere Caponord. Un lungo percorso ma emozionante per Giampiero e Dino che si dirigono verso il freddo dei Paesi Scandinavi.